Un flash mob sabato in piazza Duomo a Milano per lanciare il suo nuovo blog che non poteva non chiamarsi che eccezionale.it. È l'idea di Diego Abbatantuono che per convocare i suoi fan nel cuore del capoluogo milanese ha pubblicato l'evento sui social, da uno come me non ve l'aspettavate, vero? Il blog sarà un vero e proprio diario dove l'attore si racconterà attraverso le 3C, calcio, cucina e cinema. Ad accompagnare vostra, che Diego scriverà, ci saranno numerose foto e video di repertorio e inediti. Il primo inedito sarà proprio il filmato del grande flash mob di piazza Duomo sulle note di eccezionale veramente inizione rock con le vibrazioni. Grazie.